Faccio uscire le opere d'arte del patrimonio artistico-culturale e territoriale e le riporto su grandi muri, un po' in tutto il mondo. Per me è molto molto importante donare parte del mio tempo per queste attività, comunque la mia passione la metto anche a disposizione in maniera gratuita, in questo caso ci troviamo all'ospedale di Torino, nel reparto infantile. In questo luogo realizzerò un dipinto che abbiamo scelto, ovviamente non ho imposto io, ma abbiamo scelto tutti assieme, io ho dato un po' di opzioni, che è questo bellissimo quadro di Hugo Samson, che è un pittore svedese dell'Otocentro, dove ci sono queste due bimbe intente a giocare in maniera seria anche, un gioco in cui si stanno impegnando tanto, comunque è un momento di svago, mi fa piacere portare una piccola parte della storia dell'arte. Grazie a tutti!